Voi avete un progetto che si chiama Hub Quarter, che cosa significa e come si possono ridefinire gli spazi di lavoro? Grazie a tutti, il progetto Hub Quarter tra l'altro è stato il progetto che ha permesso la costruzione dell'osservatorio, quindi è nato prima il progetto Hub Quarter e dal nome Hub Quarter, perché abbiamo scelto la parola Hub Quarter? Perché a proposito di transizioni abbiamo immaginato l'headquarter come un luogo che nella nostra testa porta alla centralizzazione e quindi abbiamo detto non si tratta più di gestire i flussi di una città, di un luogo, di un distretto dalla periferia, immaginate la mattina quello che avviene nelle grandi città, le persone escono di casa, prendono i mezzi, vanno tutti in centro, si condensa il traffico, la congestione e poi succede la stessa cosa alle 7, alle 8. In questo anda-rianda succede che i luoghi si rendono vuoti, quindi tendenzialmente tutta la periferia e tutte le zone periferiche diventano spopolate, non ci sono i servizi e quindi tendenzialmente noi passiamo la maggior parte del tempo in prossimità del luogo di lavoro. E questa riflessione diciamo a che cosa ha portato a dire? Ma siamo sicuri che questo modello è sostenibile? E siamo sicuri al contrario però che, e questo è stato un po' il risultato negativo della pandemia, dove abbiamo associato un'unica nazione, la parola smart working all'estero non esiste. Non esiste proprio, esiste solo in Italia, quindi se tu hai un inglese e gli dici smart working non ti capisce di che cosa stai parlando. E noi abbiamo confuso lo smart working, quindi un lavoro smart che deve essere intelligente, con il remote working, con il lavorare da casa. E tra l'altro, attenzione, perché sul tema del lavorare da casa si porta dietro tutto il concetto dell'automizzazione del lavoro, della disunione, della disaggregazione, della perdita di identità, dei valori dell'azienda. Allora, questo che cosa significa dal nostro punto di vista? Che noi dobbiamo passare a un concetto che gli inglesi, quelli bravi, dicono activity based working, cioè dare una pluralità di spazi, non uno spazio unico, la postazione nell'open space assegnato, ma spazi di socializzazione, spazi di contatto, spazi per fare i feedback a due. Quindi dobbiamo avere una pluralità di luoghi e, diciamo, la visione del progetto Upquarter è stata questa. Ma se questo deve essere fatto nelle aziende, e lo diamo per scontato che un CEO for Life affronti il tema dell'ingaggio e della motivazione in ogni singola azienda, possiamo continuare ad immaginare le città organizzate in maniera industriale, in cui tendenzialmente ognuno fa questo collegamento spola-casa-ufficio in continuazione? E la risposta è stata no. Noi dobbiamo immaginare un concetto di città a chilometro zero, una città a 15 minuti, in cui le persone possano avere occasione di incontro in più luoghi e dobbiamo aprirli. E quindi questo significa una trasformazione nel nostro modo di vivere in presenza e il progetto Upquarter sta cercando di portare questa cultura faticosa in gran parte delle aziende.